buongiorno ragazzi anche oggi allenamento vorrei parlarti di questa camminata del contadino l'hai mai fatta? magari ne parlerò in un video completamente dedicato ma per oggi ne vediamo una piccolissima parte e velocemente quindi fai bene questa parte del riscaldamento perché poi ti spiegherò un po la forza a dopo ciao are you ready? direbbero quelli bravi comunque siamo al momento della forza dedicato al bicipite quindi occhio tieni i gomiti bene attaccati per qualsiasi domanda guarda giù e scrivi ciao ci vediamo a workout ragazzi ultimi quattro giri qui troverai il farmer walk l'allieva che vedi sta imparando ma l'idea di questo esercizio è mantenere le spalle attaccate completamente ferme con le braccia distese quindi prova a non far muovere i pesi quindi questa è proprio l'idea principale in ogni caso qualsiasi domanda mi scrivi sotto e anche per oggi ti dico allenati bene noi ci vediamo domani al prossimo allenamento iscriviti al canale e ciao 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 ciao